Wow! Si sposti la prego signora lepre! Che divertente! Perché questa grande lepre non ci lascia passare? Ci sono tantissimi animali sugli alberi, sono davvero fantastici! Benvenuti al bar delle lepri! La Fatina accendi tutto e venuta qui al bar e il frigorifero aperto al sole ha lasciato! Le carote sono appassite e non possono dare alle lepri neanche un po' del succo tanto amato! Le piccole lepri il loro succo di carote subito devono avere! Perciò trovate nuove carote che oggi sono cresciute sottoterra e così potranno bere!